Ma perché mi chiedevo questa mattina, mentre non stavo facendomi la barba, sui social fioriscono gli insulti ad ogni piesso spinto? Basta che una persona faccia un intervento che uno non condivide ed ecco che la replica molto spesso è proprio uno stroncante insulto. Perché si ricorre agli insulti? Bene, ci ricorrono, mi sono dato la risposta, semplicemente le persone le quali non hanno argomenti per articolare il loro dissenso e allora esplodono nella parolaccia e nell'insulto. Grazie a tutti! Grazie!